La regina Elisabetta II considerava, imperativo, che suo nipote, il principe Harry e sua moglie Meghan Markle mantenessero una sicurezza, effettiva, anche dopo essersi dimessi dalla carica di membro della famiglia reale. Lo rivela una lettera segreta che è apparsa nei documenti del Tribunale lo scorso dicembre, quando il principe Harry fece ricorso contro il Ministero dell'Interno in merito alla decisione di ridurre il dispositivo di sicurezza per lui e la sua famiglia durante le visite nel Regno Unito. Mantenere i Sussex al sicuro era di fondamentale importanza per la regina Elisabetta e la sua famiglia. Dopo il famoso «Vertice di Sandringham», Sir Edward Young, che scriveva per conto del palazzo, scrisse a Sir Mark Sedwill, l'allora segretario di gabinetto, per spiegare cosa era stato deciso. La lettera apparsa nei documenti del Tribunale lo scorso dicembre, secondo il Telegraph, ha rivelato che Sir Edward sosteneva la continuazione della «sicurezza effettiva» di Harry anche dopo che il principe decise di lasciare la famiglia reale. Sir Edward scrisse, «Durante la loro permanenza nel Regno Unito, il duca e la duchessa di Sussex si aspettano di partecipare a impegni rivolti al pubblico in rappresentanza degli enti di beneficenza e delle cause che rimangono loro care. Questi impegni non sarebbero più formalmente assunti per conto di sua maestà ma, dato il profilo del duca e della duchessa di Sussex, attirerebbero comunque l'attenzione del pubblico. Capirai bene che garantire che il duca e la duchessa di Sussex rimangano al sicuro è di fondamentale importanza per sua maestà e la sua famiglia. Aggiungendo, «Dato il profilo pubblico del duca e in virtù della sua nascita nella famiglia reale, il suo servizio militare, il profilo indipendente della duchessa e la storia ben documentata di attacchi estremisti contro la famiglia Sussex, è imperativo che la famiglia continui a ricevere assistenza. Con una sicurezza efficace. E, naturalmente, la famiglia è consapevole dei tragici incidenti del passato. Elisabetta sconvolta per la decisione di Harry Ma come prese Elisabetta la decisione di Harry di abbandonare i suoi doveri reali? Nel libro di prossima uscita, The New Royals, Queen Elisabeth's Legacy and the Future of the Crown, una fonte ha fornito uno spaccato del «tumulto» della defunta regina sugli eventi dell'epoca. Su Vanity fer'è stato pubblicato un estratto del libro, in cui l'insider ha dichiarato «la regina era molto ferita e mi ha detto, non lo so, non mi interessa e non voglio pensarci più». Il libro è stato scritto dall'esperta reale e corrispondente Katie Nichol, la quale ha anche affermato che la defunta regina era sconvolta dal fatto di non aver potuto trascorrere più tempo con il principe Archie e la principessa Lilibet. La mancanza dei nipotini. La Nichol ha scritto della delusione di sua maestà per il fatto che Harry e Meghan non abbiano portato i loro figli a Balmoral in agosto per un pigiama party. È stato motivo di tristezza per la regina il fatto di poter vedere così poco Archie e Lilibet e che Harry e Meghan non abbiano potuto unirsi a lei per un fine settimana a Balmoral in agosto, quando la regina era solita ospitare una «pigama party» per tutti i suoi nipoti e pronipoti. La regina incontrò Lilibet solo una volta, quando i Sussex si recarono nel Regno Unito nel giugno 2022 per il giubileo di Platino e lei morì a Balmoral solo tre mesi dopo.